Ciao a tutti, sono 11.23.31, ho aspettato la mezz'oretta prima di fare il video e perché non ero in condizione, perché sono un malato di calcio, un malato di inter e dunque fa troppo male uscire dai gironi per la terza volta e far figure di merda così. Oggi siamo stati vergognosi, oggi vi dovete vergognare tutti, oggi vi dovete vergognare tutti perché non avete rispetto, non avete assoluto rispetto, perché voi dovete avere rispetto della maglia, dello stemma, della storia che l'Inter ha, perché siete entrati in campo, non avete avuto animo, non avete avuto voglia, non avete avuto gioco, non avete avuto niente, niente, non avete avuto nulla, non c'è nulla da analizzare perché oggi voi non avete giocato a calcio, siete entrati in campo, una partita fondamentale e non avete dato nulla, nulla. Voi parlate solo, nella prepartita vi dà il tutto gasato, hai fatto una stronzata, ci hai fatto perdere la partita, tu che dovevi dare esperienza, tu che ha 34 anni ti permetti, tu che ha 34 fottuti anni ti permetti di prendere due gialli, due gialli a 34 anni per proteste, tutti e due, tutti e due, ti dà giallo e vai a muso muso con l'arbitro. Quindi le opzioni adesso proviamo ad esaminarle, o sei ritardato, cioè che sei proprio nel cervello limitato un cerebro leso, prima opzione, secondo o sei un gobbo di merda che lo fai apposta, possibile, o sei un pagliaccio, a mio avviso la più fattibile, oppure sei un clown, queste due sono simili, vedete voi. Comunque, non so se avete altre opzioni potete aggiungerle voi, comunque c'è pochissimo, non c'è nulla da ridere, oggi io non ho proprio minima intenzione di ridere né di ironizzare sull'Inter perché sono malato, ho questa malattia che ho nel DNA dell'Inter, per fortuna per il momento non credo di averne altre, altrimenti veramente sarebbe ancora peggio, insomma, nulla, nulla. Questa semplicemente è una vergogna per essere entrato in campo così, per non aver giocato a calcio, per non aver avuto una riduzione di orgoglio, c'è qualcosa evidente, di evidentissimo che non va in conte da quell'incontro lì, in quest'estate, non ha più motivazione. Per me questo sta a fine anno e poi prende e se ne va, per l'occasione, prende e se ne va, se non a fine anno, a fine del suo contratto, ma è qui tanto per far da teleghettatore. Questo è quello che penso io, abbiamo una cosa clamorosa, arriva Eriksen, fa schifo, fa schifo non mi chiedete dell'allenatore del modulo perché non è possibile che tu non fai una partita giusta, arriva Kimi e fa schifo, che era uno dei più forti al mondo al Borussia Dortmund, arriva Vidal e fa schifo, non lo so, è una casualità, non lo so, non so cosa devo dirvi, Vidal con conte tra l'altro. Io non ho più parole, siamo fuori dal girone di Champions per la terza volta, l'Atalanta ha vinto ad Anfield, siamo l'unica squadra di merda che per il terzo anno consecutivo, perché l'Atalanta, occhio, che al primo anno, al primo anno, con Paselec titolare, è arrivata ai quarti di finale. Noi al primo anno siamo usciti ai gironi, pariggiando contro il PSV, al secondo anno siamo usciti nuovamente, al terzo anno usciamo nuovamente. E il problema di oggi non è stato tanto perdere, ma io non l'ho mai visto da quando tifo Inter una squadra così scoglionata, così demotivata, perché quando giocavamo con Gargano, Guarini e Alvarez titolari, la grinta, nonostante facessero schifo, ce la mettevano, io preferisco una squadra del genere, piuttosto che Neymar, Messi, Lautaro e Lautaro, che cazzo di paragono, Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, possono pure essere forti, ma se sono scoglionati, io nell'Inter non le voglio, perché ci vuole rispetto, cosa che nessuno di voi avete, e siete fortunati che io ho aspettato tanto a fare il video, se no non mi sarei controllato, ciao a tutti, forza Inter sempre, e non quelli che sono in campo, quelli che ci rappresentano in campo, ma il nostro sistema e i nostri colori, sempre forza Inter.